Buongiorno buongiorno, allora oggi andremo a fare, andrò a fare un video abbastanza lungo Vi mostrerò tutte le migliori zone di farm Perché sono le migliori, in quale condizioni e per cosa farle Di tutti gli atti, quindi il video sarà un po' lungo Vi farò vedere tutte le zone, non ne parlerò solo, quindi li vediamo proprio in gameplay E vediamo anche il ritrovamento L'unica che non andrò a fare per leggermente velocizzare saranno il livello bovino Però vi farò vedere magari cosa dovete fare per fare il livello bovino Allora partiamo subito proprio dal livello bovino Bisogna andare a campo di pietra Bisogna andare per prima cosa a recuperare la gamba di Virta Allora il livello bovino per trovarlo ci sono delle piccole tecniche Bisogna seguire la strada Perché le pietre, eccole qua, sono sempre vicino alla strada Questa è una cosa fondamentale Quando arrivate a campo di pietre cercate sempre la strada E poi diciamo camminate o teletrasportatevi sulla strada E troverete facilmente i monoliti Arrivati a Tristram qui se volete potete uccidere i vari mostri Perché ci sono diversi elite Griswold può lasciare qualcosino Oppure andate diretti, se avete il teletrasporto magari andate diretti da Virta Prendete la gamba Da un portal e ve ne andate Ok La gamba per farla adesso magari ve lo farò vedere Ma non so, non tutti conoscono come Aprire il portale bovino Va messo un tomo del town portal E la gamba di Virta Dentro al cubo oratrico Va trasmutato E apre il portale bovino Il portale bovino non lo farò come vi ho detto Per un fatto di velocità un po' lungo Seconda zona da farmare Che si può farmare nel crocevia È la paluta nera Qui pure non è facilissimo trovare la torre della contessa Normalmente si trova vicino a una casa Cioè una casa di roccata In questo caso l'ho trovata subito Normalmente è nella zona della casa In questo caso per esempio non è vero Però a volte è così Quindi se trovate per esempio una casa di roccata Sapete che più o meno è in quella zona La torre della contessa Qui per trovare le scale non è facilissimo Normalmente consiglio di cercare sempre Il luogo più vicino all'ingresso alle scale Se non c'è nel luogo più vicino Di solito è nel luogo più lontano Quindi non c'è diciamo grosse vie di mezzo Però altre tattiche non ci sono Altro modo per riconoscere Allora di solito le scale per andare sotto Sono sempre vicino a dei colonnati Anche se in questo caso non è vero O comunque C'ha delle colonne vicino Comunque la prima Vedete? La prima zona in cui dovete vedere È sempre la zona più vicina All'ingresso Io vi consiglio di skippare tutti i mostri qui Perché sono di atto 1 E non danno punti esperienza E Eccolo vedete C'è sempre il colonnato Non danno punti esperienza E difficilmente anche oggetti di qualità Quindi skippateli tranquillamente Perché fare la contessa? La contessa bisogna farla Bisogna farla Si può fare per due motivi Prima cosa Lei rilascia sempre rune Sempre rune In più ha la possibilità di lasciarci La chiave del terrore La chiave del terrore serve Le tre chiavi Terrore, distruzione e odio Servono per Aprire Uno dei tre portali Che poi Che insomma Per gli uber boss Per i primi tre uber boss I primi tre uber boss Poi Fatti tutti e tre Quindi servono nove chiavi Ci porteranno A recuperare tre frammenti Che ci aprirà l'ultimo portale Dove ci saranno I tre finali uber Che sono Diablo Bal E Mephisto Non vi ho parlato Del Del livello bovino Il livello bovino Non è Anche qui si fanno pochi punti esperienza Però è uno dei posti migliori Se volete farmare Soprattutto Oggetti tipo Oggetti con castoni Oggetti eterei E' molto facile Più facile Trovate lì Perché Sono molte le vacche Quindi la probabilità E' molto alta Di trovarle Anche Oggetti tipo Gemme Rune Si trovano Abbastanza bene Nel livello bovino L'ultima zona E' le catacombe E' le catacombe Questa qui pure Io Attualmente Consigo di farla Soprattutto A livello Se c'è la zona Terrorizzante Ovviamente Tutte queste zone Che sto facendo Dove qui Vi conviene Schippare i mostri Poi se è terrorizzante Magari fateli Perché comunque Lì Ve le aumenta Di livello E fate comunque Punti esperienza E c'è più probabilità Di trovare oggetti buoni Qui invece Per trovare le scale Oggettivamente E' più complicato Perché Va un po' Quasi a casaccio Non c'è Un vero Proprio Zona Dove trovarle E' vero Che sono due livelli Solo Normalmente Si fa abbastanza Velocemente Come il run Qui Schippa direttamente Qui Andariel Eccola qua Andariel Va fatta Per due ragioni Il primo E' perché E' Da L'essenza Una delle Quattro Essenze Per creare I token Che è Distruzione Odio Terrore E Non ricordo Comunque L'essenza blu E' Il secondo Motivo Per cui Fare Andariel E' Fondamentalmente Perché Ha una buona probabilità Di rilasciare Di troppare Anelli unici Una Probabilmente Una delle più alte Non è che sia Una motivazione Per cui Io vi consiglio Di fare Andariel Consecutivamente Però Nel momento in cui Arriva terrorizzante Buttatevi su Andariel In un'ora Ne fate veramente Tante C'è buona probabilità Di trovare qualcosa Di buono Atto 2 Atto 2 E' Il peggiore Probabilmente Non c'è Grossissime zone Vi posso consigliare Nel limite Se non trovate Buone zone Terrorizzanti Andate Sulla città Perduta E cercate Allora Questo luogo E' buono Se siete Di livello Basso Tipo 80 75 Qui Fate parecchi Punti esperienza Anche con i mostri Qui fuori Però l'obiettivo E' trovare La botola Qui c'è Il tunnel Per gli antichi Che era una delle zone Prima migliori A livello Di Sono mostri A livello 85 Che prima Erano più alti Adesso Ovviamente Con le zone Terrorizzanti Questo vale Poco Però Se non avete Zone terrorizzanti Buone E dovete fare Punti esperienza Perché O magari Perché non riuscite A fare la zona Terrorizzante Anche se La vedo difficile Comunque questa Può essere Una buona zona E' abbastanza Piccola La fate velocemente Dipende un po' Anche dal Diciamo Personaggio Che avete Però E' comunque Una buona zona Dove si fanno Parecchi punti esperienza Non tantissimi Ma parecchi Atto 2 E' secondo me Un po' il peggiore Per ritrovare Scusate Come zone Da farming Perché non ce ne sono Molte Io intanto Comunque recupero Tutti gli oggetti Poi magari Se troviamo qualcosa Interessante Lo vediamo in specifico Le zone terrorizzanti Qui pure qualcosa Si può fare Si può fare Il canyon dei maghi Se trovate Le zone terrorizzanti Perché Nelle Nelle Come si chiama Nelle Eccole qua Nelle tombe Scusate Nelle tombe Si sono parecchi mostri Quindi E' una buona zona Però oggettivamente L'unica altra zona E' il santuario arcano Perché il santuario arcano Il santuario arcano Ci da La chiave dell'odio La chiave dell'odio E' la seconda Dopo quella Dalla contessa Che Vi permetterà Di fare Di fare Di aprire I uber boss Allora qui pure Il discorso E' sempre lo stesso Potreste Schippare tutti I mostri Questi qua Danno Un punto di esperienza Se siete di livello Non troppo alto Comunque Non sopra il 90 E dove L'evocatore L'evocatore Non lo sapete Dove Bisogna cercarlo Purtroppo Non ho mai capito Se c'è una Una base Su cui Lui si sposta Perché se cominciate A farlo Eccolo qua In maniera Diciamo A farmare Solo lui Consecutivamente Non lo so Non si capisce Dove Io pensavo Fosse Che si muoveva In maniera Diciamo Oraria Cronologica In senso orario Invece non è vero Quindi è un po' casuale Una volta fatto Io vi consiglio Di andare qui E andare Tipo Ad atto 1 Ad atto 4 Perché Quando poi Ritornerete Fate uccita e salva E rientrate in gioco Att 2 Purtroppo Ha parecchia distanza Da fare Da dove Inizia il personaggio In città Al 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 Crocevia Quindi vi conviene Andare in un altro atto E poi Diciamo Ritornare A atto 2 Atto 3 Eppure Non è un buonissimo Diciamo Un buonissimo atto Per farmare Perché Perché fondamentalmente Non ci sono delle buone zone Le uniche due buone zone Fondamentalmente A parte le zone terrorizzanti Perché le zone terrorizzanti Atto 2 Sono interessanti Perché Nel foresta del ragno Grande polo 2 Nel giungla scorticatrice Ci sono parecchi mostri I feticci Sono tanti E fate parecchi punti esperienza Però A parte questo Fondamentalmente È Travingal E Mephisto Allora Travingal Andateci però piano Perché Travingal È probabilmente Uno dei posti più difficili Quindi Dipende dal personaggio Che avete Cioè Utilizzare Fare Travingal Come farming È difficile Se lo possono permettere Pochi personaggi E Il senso Di farlo C'è Con pochi personaggi Cioè Il problema Di farmare Fondamentalmente È La difficoltà La probabilità Di morire Con cui voi Fate la zona Se Avete troppe probabilità Di morire Non la fate Perché Rischiate solamente Di far tanni Fondamentalmente Quindi Io Vi consiglio Io per esempio Con Con questo personaggio Siamo ai limiti Cioè È conveniente Ma non troppo La fa abbastanza Facilmente Ma Non è uno Dei posti migliori Non ci fanno Nemmeno Molti punti di esperienza Ancora L'atto 3 Quindi Il consiglio È Di farlo Fondamentalmente Col barbaro Col barbaro Berserk E non altro O al limite Con qualche personaggio Che va molto bene L'altra zona È Mephisto La Mephisto Pure qui Per trovare le scale È veramente Complicate Normalmente Dovete andare Nella parte alta O Diciamo Nella parte alta Da dove Uccide Dal Dal crocevia Ma non è detto Quindi Normalmente Cercate sempre Nella zona Più vicina Poi Se non è Nella zona Più vicina È nella zona Più lontana È un po' come Per quello che riguarda La torre La torre della Contessa Arrivati qui Potete fare Due cose O pulite Sempre Se avete Un buon personaggio Perché Attenti Che qua Si rischia Di morire Sempre Per colpa Dei Dei Diciamo Del Diciamo Dei personaggi Quelli del concilio Tra virgolette Questi Sono elite Molto forti Si può Pulire Tranquillamente Perché questi Danno Come vedete Diversi Oggetti Qui c'è sempre Un elite Qui sotto Sempre Si può pulire Però Fatelo solo Se non rischiate Di morire Perché se rischiate Di morire Schippate tutto Andate direttamente A Mephisto Mephisto Si butta su Abbastanza facilmente Non è Un Diciamo Un boss Di fine atto Molto forte È Fracile Mephisto Perché farlo Fare Mephisto Perché È uno Di persone Dei elite Scusate Dei boss Che dà più probabilità Di trovare Le cimere Per l'arlecchino Può Troppare Dei buoni Oggetti Troppa L'essenza Dell'odio Che è una Delle quattro Per fare Il token E È abbastanza Facile Da fare Quindi Quando cominciate A essere Un pochino Forti O col mago Cominciate A avere Il teleport Diciamo Che fare Il Mephisto È una Delle Delle prime Cose Che conviene Fare Atto Quattro Cosa fare Atto Quattro Oggettivamente Non conviene Fare nient'altro Che Diablo A meno Che Trovate Sempre Le zone Terrorizzanti Perché Altro Da fare Non c'è Sinceramente C'è Il La Fornace Ma Oggettivamente È difficile Che Vi roppa Qualcosa Come Vi ho Sempre Detto Questa Zona Qui Da Tanti Punti Esperienza Ci Sono La Densità Di Mostre Molto Alta Il Consiglio Mio Qui È Di Non Andare Dritti Da Diavolo Come Fanno In Molti E Di Buttare Su I Mob Qui Non Dico Di Pulire Tutto Quando La Perfezione Ma Quasi Perché Oggettivamente I Mob Sono Tanti E La Probabilità Di Trovare Dei Buoni Oggetti È Una Delle Migliori In Tutta Diavolo In Tutto Diavolo 2 Quindi Il Mio Consiglio Qua È Di Pulire Un Pochino Ci Mettete Qualche Minuto In Più Però Come Vedete Gli Oggetti Scendono Già Rispetto A Quello Che Ho Fatto Fino Adesso Vedete Come I Oggetti Scendono Molto Più Facilmente Ci Sono Molti Elite In Questa Zona Oltre Che Ai Tre Standard Che Ci Sono Sempre Ci Sono Come Minimo Altri 2 3 Elite Quindi Arriviamo Sempre 5 6 Elite Più Diavolo Quindi Vedete C'è Sempre Probabilità Di Trovare Oggetti Leggendari Oggetti Magici Molte CEM Trovate Normalmente Non è Un Posto Dove Si Farma Grosse Rune Oggettivamente Se Però Molto Spesso Quelle Che Trovate Sono Di Livello Alto State Attendo All'Orde Seis Questo È Un Bastardone Cioè Non Dando Lui Ma I Mostri Che C'è Intorno Se Hanno Soprattutto La Velocità Molto Attenti Perché Quelli Sciottano Che È Una Meraviglia Probabilmente Sono Tra Gli Elite Mostri Più Difficili Per Questo Personaggio È Un Po Complicato Questo Elite Qui Che Fa Un Bel Po Di Danno Ma Non Per Tutti I Personaggi Aprite Diavolo E Diavolo Perché Farlo Diavolo Lui stesso Da Una Delle Quattro Essenze Per Fare Il Token È Comunque Un Boss Che Può Dare Un Po Tutti Gli Oggetti È Il Secondo Dopo Ball Come Qualità Diciamo Di Oggetti Probabilmente Non Ho Aperto Uno Dei Pari Portali Infatti Eccolo Qua Sui Portali Stateci Attenti Perché Marici Cliccate Ma Non Lo Apre Questo Un Bug Che C'ha Sempre Avuto Diavolo Lo Vedete Dal Colore Per Terra Deve Diventare Tutto Rosso Oltre Che A lui Che Si Annuncia Ma Non Sempre Annuncia Quindi Guardate Il Colore Per Terra E Niente Diavolo Comunque Ha La Possibilità Di Troppare Parecchi Oggetti Eccola Una Bella Essenza Del Terrore Ci Ha Dato Ottimo È Un Buon Drop L'essenza Del Terrore Perché I Togani Sono Molto Richiesti E Atto 4 È Andato 12 Recuperò I Colpi Buono Solo 12 No Io Non Lo Tengo Però È Oggetto Oggettivamente E Infatti Come Vedo Tantissime Essenze Del Terrore Perché Perché Diavolo È Facile Da Fare Si Fanno Molti Punti Esperienza Si Va Veloci Fatto Questo 8 5 8 5 Abbiamo Diverse Cosine Da Fare Io Consiglio Alto Piano Del Gelo Dove La Prima Cosa Da Fare Andare Su E Uccidere Sempre Questo Boss E Qui C'è Sempre Questo Elite Qui Poi Tornate Su Andate Dal Sovrintendente Uccidetelo Attenti Quando Lo Uccidete Andate Via Perché Quando Poi Uccidete C'è Una Tempesta Di Elementi Che Molto Spesso Fa Crashare Il Gioco Poi Un'altra Cosa Da Fare Una Volta Fatto Quei Due Post E Lì Velocemente Andate In Città Portate Il Tempio In L'Attac E C'è Questo Elite Che Ha La Più Alta Probabilità Di Drop Del Torso Di Tal Russia Che È Uno Degli Oggetti Più Ricercati Per Il Mago È Vero Che Dipende Dalla Build Che Fate Non vale Tantissimo Però Se Riuscite A Comprarla Scambiando Le Rune Va Bene Ma Se Dovete Dropparla Soprattutto Se Zona Sale Del Dolore Perché C'è Nila Duck Con La Chiave Della Distruzione La Chiave Distruzione La Terza Per Fare Your Boss Dove Andare Qui Bisogna Sempre Andare In Basso Qui Pure Fare Pulire Nii Io Ve lo Consigo Fino A Certo Punto Dipende Cosa Fate Intanto Ci Di Solito Le Scale Per Andare Sotto Sono Sempre Nella Parte Andate Nella Parte Bassa E Poi Andate Verso L'alto Avete Visto Bassa E Poi Verso L'alto La Trovate Nell'80% Dei Casi Se Non La Trovate In Questa Maniera L'altra Cosa Da Fare Invece Andare Verso L'alto Basso Quindi Nei Due Opposti Sostanzialmente Arrivate Nella Nell'ultima Zona Allora Qui Io Fondamentalmente Non vi Consiglio Di Farmare Qui Perché Ci Sono Dei C'è C'è Poco Senso Tra virgolette Potreste Però Ci sono Dei Mostri Un po' Ostici Tipo Che Avvelenano Oppure Le Le Cose Le Le Succubi Oppure Andate Direttamente Nel Attack Lo Cercate Eccolo Qua Attenzione Nel Attack Perché Nel Attack È Pessimo È Uno Dei Boss Miniboss Più Complicati Di Tutti Perché Lui Fa Esplodere Tutti I Calaveri Intorno Come Sempre Non Guardate Questa Build Perché Purtroppo Questa Purtroppo Fortunatamente Questa Si Getta Addosso Al Mostro E Lo Stecca Quindi Non Da Tempo A Nel Attack Di Di Reagire Però Con Molti Con Molti Build Da Problemi Perché I Corpi Esplosi Di Nel Attack Fanno Un Casino Di Danno Cosa Dicevo Si Nel Attack Farlo Soprattutto Per La Chiave E Fondamentalmente Basta Perché Difficio Che Troppa Qualcosa Ultima Zona Ok Andiamo Da Ball Allora Io Il Consiglio Che Vi Do La Prima Zona Che Questa Schippatela Perché Trovate Le anime Nere Che Sono I Mostri Peggiori Di Diavolo Sono Terribili Non Si Tengono Praticamente Con Quasi Nessun Personaggio L'unico Probabilmente Il Paladino Zolata Dream Perché Portando Le resistenze Al Fulmine Al 90% Più O Meno 88 90% Riesce A Tenerli Il Resto È Un Disastro Quei Mostri Sono Veramente Un Disastro Quindi Schippateli Senza Senza Pietà La Seconda Il Secondo Livello Questo Qui Normalmente Si Trova Una Di Mostri Abbastanza Buoni In Questo Caso Sono Sato Un Po Sfigatello Però Io Qui Molto Spesso Lo Faccio Perché C'è Nella Buona Probabilità Di Trovare Buona Discreta Probabilità Di Trovare Qualco Oggetto Interessante Rune Non Troppissime Però Oggetti Si E Quindi Anche Buoni Punti Esperienza Non È Il Massimo La Diciamo La Quantità Di Mostri Non È Eccelsa Però Ci Sono Due Buoni Gruppetti Arrivate All'altro L'anno Distruzione Eccoli Qua Le Anime Nere Quindi Qua Quando Trovate Queste State Attenti Io Con Questo Personaggio Tendo A Pulire Perché Ho Paura Oggettivamente Di Questi Mostri Qui Sono Tra Gli Unici Che Mi Fanno Paura Se Trovate Quei Mostri Lì Scegliete Potete Anche Schippare Abbandonare Perché Oggettivamente Andare A morire Qui È Veramente Un Casino Se Invece Riuscite Non Li Trovate Andate Tranquillamente In Ball Ball Adesso Questa Qui In Particolare Se Non Fosse Che I Mostri Che Ball Evoca Vanno A Cadenza Cioè Non Li Fa Velocemente Questa È La Zona In Si Fa Più Punti Esperienza In Assoluto In Tutto Diavolo 2 Senza Alcun Dubbio È Una Zona In Si Fa Uno Spavento Di Punti Esperienza Non Si Fa Molti Non Si Si Uccide Attenzione Alla Secondo Elite Che Viene Evocato Che È Quello Di Atto 2 Vi Fa Un Veleno Che Non C'ha Nessun Tipo Di Senso Stare Lì Ad Aspettare Che Bavia Sprecando Le Pozioni Cioè Quando Quando Lo Prendete Andate In Città Curatevi E Ritornate Sotto Anche Perché Nel Frattempo Poi Lui Ha Rievocato Un' Altra Volta Quindi Non Perdete Nemmeno Tempo Ad Aspettare Che Che Valle Rievocchi La Seconda Ondata Terza Ondata Travingal Diciamo I Mostri Che Trova Da Travingal Quarto Ondata I Signori Del Veleno Questi Un Attimino Dei Starci Attenti Ultima Ondata Sono I Mostri Più Forti Di 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 Diciamo A Livello Non Proprio Però Qua Diciamo I Mostri Più Forti Sono I Signori Di Distruzione Mi Sembra Si Chiamano Hanno Veramente Tanta Vita E Fanno Tanti Tanni Infatti Mi Sono Un Po Spostato Per Ball Ball In Assoluto L'elite Più Forti Di Tutti Il Boss Più Forti Di Tutti Serve Veramente Parecchi Danni Per Buttarlo Su Questa È Una Build Che Va Abbastanza Veloce Ball È Fondamentalmente L'elite Che Dà Più Scusate Il Boss Che Dà Più Oggetti Probabilità Di Trovare Oggetti Di Livello Molto Alto Un Po Tutti La Cosa Interessante Di Ball È Che Ah Questo Sì Per Quando Riguarda Ball Se Ball Vi Troppa Un Incantesimo Soprattutto Io Consiglio Quelli Più Grandi Scusate Un Talismano Quello Superiore Respeccate Quel Talismano Lì Se Volete Respeccarlo Per Respeccare Un Alma Negra Trovo Altro Che C'è Un Discreto Oggetto Leggendario Questo Fa Pena E Se Se Volete Utilizzare Le Gemme Per E Io Non Lo Faccio Ma Molti Utilizzano Le 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 Gemme Perfette Per Respeccare Gli Incantesimi Mettete L'incantesimo Nel Cubo Tre Tre Gemme Perfette E Respec Fatelo Possibilmente Con Un Incantesimo Un Talismano Scusate Mi Sbaglio Sempre Un Talismano Superiore Che Viene Troppato Da Ball C'è Buone Probabilità Che Vi Respecchi Un Talismano Di Livello Top Detto Questo Più o Meno Abbiamo Fatto Tutto Quello Che Si Può Fare In Diablo 2 Tutte Le Zone Più o Meno Sono Tutte Quante Queste Qui Poi Oltre Le Zone Terrorizzanti Quelle Sono Un Altro Discorso Probabilmente Queste Sono Le Migliori Zone Da Fare E Più Veloci Diciamo Che C'è Più Convenienza Da Fare O Io Non Consiglio Di Fare Tutta La Run E Poi Di Ricominciare Da Capo Vi Conviene Diciamo Fissarvi Su Qualcuna Un Paio Due Tre Massimo E Poi Ricominciare L'unica Le Migliori La Migliore Probabilmente Da Fare Di Continuo È Diablo Diciamo Che Con Questo Più o Meno È Tutto Vi Ringrazio Per La Visione Del Video Adesso Su Diavolo Due Resurrected